Mentre gli americani dicono ai loro partner fate pazienza, portate pazienza, ma non so perché l'Europa vuole apportare pazienza, se lo vogliono vabbè. Matteo, perché dobbiamo portare pazienza? Forse Matteo ce lo spiega adesso. È un grande oratore, mi complimento con lui per il suo ottimo intervento. Lo dico sinceramente, di cuore, credetemi, parola d'onore, l'Italia può andare fiera di un premier del genere, veramente, è stata una bellezza incarnata. Però non vogliamo lodare avander a nessuno, non è affar nostro, non è affar nostro.